Il Barcellona ha appena ribadito la volontà di costruire un nuovo progetto attorno a Leo Messi. Benvenuti a questo nuovo video ragazzi. La notizia di ieri che Leo Messi vuole lasciare il Barcellona è rimbazzata in tutto il mondo. Oggi ha parlato il dirigente sportivo del Barcellona durante la conferenza stampa di presentazione di Trincao, giovane di Belle Speranze. Il dirigente sportivo Ramon Planes ha detto le seguenti parole riguardo la notizia che era imbalzata ieri. La verità è che per noi è una notizia importante. Queste prime parole già confermano la verità, che Leo Messi vuole lasciare il Barcellona. Ma quello che pensiamo l'abbiamo già detto continua. Noi pensiamo a Messi come futuro del Barcellona. Vogliamo costruire un nuovo ciclo vincente al fianco del migliore del mondo e del migliore della storia. Ripeto, la nostra idea è costruire una squadra intorno a Leo Messi. Non ci spostiamo da quest'idea. Messi ha dato tanto al Barcellona e il Barcellona ha dato tanto a Messi. Il matrimonio è stato positivo e vogliamo che prosegua. Altre parole importanti che il direttore sportivo ha detto riguardano Luis Suarez. Come ho detto stiamo lavorando su un nuovo progetto. Il tecnico ha parlato con diversi calciatori. Non solo con Suarez. Prenderemo delle decisioni dolorose. Ma abbiamo un'idea precisa su come costruire la nuova squadra. Allora, è chiaro come queste siano delle parole già scritte, delle parole che non ci dicono nulla. Certo, è anche vero che un dirigente del Barcellona non poteva dire Sì, Messi è in vendita, lo vendiamo. No, non poteva dirlo. Numero uno perché Messi ha una clausola di 200 milioni e oltre. E anche perché il contratto di Messi scade tra un anno. E chi pagherebbe quella clausola quando sai che il prossimo anno lo prendi gratis? Ecco, è un teatrino. Un teatrino che secondo me riguarda il Barcellona a livello interno, a livello dirigenziale. E poi sì, da ieri è scoppiato il teatrino a livello mediatico. Quello dove Messi alle 3 è dell'Inter, alle 4 è del Manchester City, alle 5 è dello United, alle 6 è del PSG, alle 7 è della Juventus. A mezzanotte finirà anche in una squadra in Serie C, in Serie D. Ragazzi, aspettiamo i comunicati ufficiali, aspettiamo le parole di Leo Messi. È vero, Leo Messi è incazzato, diciamo, è incazzato con il Barcellona. Sa che con questa squadra non può vincere, questa squadra è costruita male, è in mano a della gente incapace, secondo lui. È alzato la voce, ha alzato la voce. Messi vuole, attenzione, Messi vuole che questo Barcellona sia costruito da persone capaci. Messi non vuole andare via. Ecco, le cose sono due. O le persone incapaci se ne vanno via, o Messi se ne andrà. Io sinceramente aspetto i comunicati ufficiali, quelli del Manchester City, che magari comunica ufficialmente l'acquisto di Leo Messi. Chissà, ma intanto, un segnale già lo riceveremo lunedì, quando ci sarà l'inizio del ritiro del Barcellona. Al prossimo video, ragazzi. Grazie.